PAPA Si tratta di sdoppiamento di personalità Quello che viene capisce di me Non c'è il psichiatra Che cos'è che c'entra questo bambino? Ti ho detto che non lo so Ah sì, allora perché si tambona? E forse non guida bene Tambine, che tambona? Tambine Ronnie, mi chiamate Aleazzo Signor, cacacacacazzo? Eccoci qua, siamo arrivati, no problem Ma tu ti immagini alla pubblicità? Tu diventi il babbo che ha abbandonato il figlio Oh, Dio mio, è proprio psichiatra Ma come metti in piedi tutto sturato a planta? Ambarata Ma le quattro scuole ha fatto la scuola americana Eh, la americana, l'italiana proprio, sì Ma adesso hai un'altra famiglia a cui pensare Ma smettila, siamo al secondo giorno E già non ne posso più No, non mi ho sparato per me No problem Buongiorno Io con questa storia pochino soffro Mi state buono Signor, tu, quando erano due le braghette? Braghette Braghette